Perché fa parte di un grande gruppo. Lavorare in l'impresa San Paolo for value per me significa crescere in competenze e conoscenze. Ogni giorno entro in contatto con realtà aziendali diverse tra loro e mi pongo costantemente nuovi obiettivi. Una sfida che affronto con entusiasmo, anche grazie alla collaborazione con le filiali e i colleghi del gruppo. Grazie a tutti.